staffe di conversione doppia canna le staffe di conversione doppia canna sono realizzate in alluminio e corredate di jolly originali evo tripod sono fondamentali per trasformare i picchetti con gambe da monocanna a veri e propri tripodi le staffe di conversione possono essere inserite sull'angolare e bloccate all'altezza desiderata tramite il perno centrale a vite gommate antigraffio oppure fissate saldamente utilizzando i fori filettati predisposti con i dati originali evo tripod in acciaio index staffe di conversione doppia canna sono prodotte nella versione basic o elite nelle varie colorazioni disponibili